La nuova 308 ha come leitmotiv la ricerca continua delle eccellenze. L'offerta di connettività si arricchisce della funzione Mirror Screen per l'integrazione del proprio smartphone a bordo dell'auto, mentre la sezione telematica si amplia con un ampio touchscreen capacitivo da 9,7 pollici. Il 308 Station Wagon vanta un concentrato di nuove tecnologie racchiuse in una nuova carrozzeria dallo stile ancora più elegante e dinamico. I grandi volumi interni sono un invito all'evasione. L'ampio bagagliaio si trasforma grazie al sedile posteriore ribaltabile Magic Flat, rivelando un pianale piatto e un grande volume, mentre l'abitacolo è molto luminoso grazie alle ampie superfici vetrate e al tetto panoramico. Nuova 308 integra la totalità degli aiuti attivi alla guida come Active Safety Brake and Distance Alert, Driver Attention Alert, Lane Departure Warning, High Beam Assist, Speed Limit Detection, Adaptive Cruise Control e Active Blind Corner Assist. Molto utile anche il Visio Park a 180 gradi che permette un'ottima visibilità durante le manovre. Contemporanea, elegante e sportiva, 308 Station Wagon GT Line utilizza materiali di elevata qualità, con finiture di alluminio ed esclusivi inserti in te. Davanti, il nuovo cofano corona la calandra verticale a scacchiera con un frontale full LED. Il marchio GT Line è scolpito in rosso sulla fascia superiore, mentre dietro, lo stile sportivo, viene affermato dal doppio terminale di scarico. All'interno spiccano il volante di pelle pieno fiore e le cuciture rosse che decorano diversi elementi come i pannelli delle porte o il volante. La 308 Station Wagon GT Line, insomma, è una vera auto rock, sportiveggiante, elegante e adatta a molte preci usi. e del nuovo cofano e del nuovo cofano all'interno